Un risultato storico, veramente straordinario, Andrea è il segretario romano del Partito Democratico e questo è un risultato che a noi ci fa molto molto ben sperare anche per il ballottaggio, è un risultato importante in un territorio di Roma che è vasto, grande e stratificato nella città, noi ovviamente aspettiamo a commentare i dati per averli tutti per quanto riguarda il Comune di Roma, sapete benissimo che i dati stanno arrivando con una grandissima lentezza, quindi ci possiamo soltanto fermare al dato che abbiamo dalle proiezioni che però sancisce un risultato molto positivo per Roberto Gualtieri, un risultato che conferma un progetto, una visione per Roma di rinascita della città a partire dalle sue periferie e la scelta di Gualtieri di andare in periferia e di ripartire dalla periferia romana si sta dimostrando vincente. Io però per scaramanzia aspetterei a fare ulteriori commenti e quindi ci riaggiorniamo a breve, grazie.